Non è la scuola dei mariti precoci, è un dietro le quinte di un defile di modelli per bambini. Notate la graziosa goffagine dei maschietti in confronto alla disinvoltura delle femminucce. Sono di casa loro sulla passerella, camminano, aprono il soprabito, se lo levano, si girano, tutto con la stessa non curanza di consumate indossatrici. E altri bambini stanno a guardare questa presentazione di abiti per prima età, organizzata da un grande magazzino. Siamo a Monaco di Baviera, perciò non poteva mancare un costumino alla bavarese, indossato impeccabilmente dalla piccola Grete. Un ometto in miniatura, levandosi il berretto, saluta, auf Wiedersehen.